ok italia uniforma 5 bravo chilo radio buongiorno a te 659 con un punto progressivo 007 ok ti confermo il tutto ok ti lascio una buona giornata e buon proseguo ok giannino buongiorno italia victor 3 francia norvegia radio 659 con un punto progressivo 008 ok grazie a te giannino buona giornata buon weekend a risentirci presto qr z cq 40 cq 40 due stazioni valide un punto per il quarto diploma francesco costica chiama italia zulu otto x ray juliet juliet italia zulu otto x ray lima tango qr z a